Il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti a varie sostanze viene effettuato regolarmente tutti gli anni con oltre una quarantina di esami del sangue, oltre ad altre visite mediche e i risultati di tutti gli esami vengono comunicati individualmente ai lavoratori e collettivamente in forma anonima, alle rappresentanze sindacali e agli istituti di sorveglianza sanitaria pubblici, cioè la ATS o la ASL, dal 2004. Molti dei lavoratori che lavorano qui a Spinetta vivono qui nella città di Spinetta e siamo perfettamente sicuri vivendo a casa. Per darvi un esempio abbiamo diversi stazioni monitorazioni per constantly check the quality of the air around the plant. This is just an example of how Solvay cares about the health of the workers and the population living around the plant, because we are part of the community, we are not detached from the community. Proprio perché lavoriamo da tanto tempo sul territorio, servendo generazioni di famiglie che hanno lavorato alla Solvay, abbiamo sempre una visione di questa azienda data da chi ci lavora all'interno. Il biomonitoraggio che viene condotto da oltre 20 anni non ha evidenziato alcuna patologia correlabile alle sostanze di uso lavorativo. Grazie a tutti.